Cosa hai nel tuo zaino? Ho un astuccio dei libri, dei quaderni, i compiti di italiano, le chiavi di casa mia e una foto della mia famiglia. E tu cosa hai nel tuo astuccio? Ho delle penne, delle matite, una gomma, degli evidenziatori e la penna di mio padre. E tu cosa hai nel tuo zaino? Ho una penna, un libro e un quaderno. E' tutto? Sì, ho solo una lezione oggi. Sì, ho solo una lezione oggi. Sì, ho solo una lezione oggi. Sì, ho solo una lezione oggi.